Le carte prepagate sono diventate uno strumento indispensabile per chi vuole fare acquisti su internet o per ricevere denaro Oggi parliamo di Hype, la nuova carta prepagata completamente gratuita che offre 10 euro per i nuovi clienti Io sono Francesco di 5G News, scopriamo come attivarla Innanzitutto vi dico subito che attivarla è stato semplicissimo Basta collegarsi sul sito, registrarsi, inserire i propri dati personali e fotografare i documenti di riconoscimento La riceverete a casa nel giro di pochissimi giorni La possono attivare anche i più giovani dai 12 anni in su Per attivare la carta fisica associata al circuito Mastercard è necessario scaricare l'applicazione sul vostro smartphone Inserire pochissimi dati e funziona immediatamente All'interno dell'app troverete il PIN per pagare tramite POS nei negozi o per prelevare tramite gli ATM La carta sfrutta la tecnologia contactless quindi basterà avvicinare vicino al POS la vostra carta Il pagamento avrà in maniera istantanea Per i pagamenti sotto i 25 euro non sarà necessario inserire il PIN Ha anche la tecnologia NFC e quindi potrete pagare anche con il vostro smartphone tramite Apple Pay Alla carta fisica e associato anche a un conto bancario gratuito che vi consente di inviare e ricevere bonifici gratuitamente Sempre tramite l'applicazione potrete ricaricare anche il vostro telefonino Però ho notato che al momento non è presente né Iliad né Omobile e nemmeno Chiena Sono presenti solamente gli operatori tradizionali, principali e poste mobile E sempre tramite l'applicazione potrete inviare un bonifico, ricaricare un'altra carta hype Vedere le vostre coordinate e poi impostare le notifiche personalizzate per ricevere un messaggio quando farete degli acquisti Come vi accennavo all'inizio i nuovi clienti possono beneficiare di un credito gratuito di ben 10 euro Basta effettuare una ricarica anche solamente di 1 euro e riceverete il bonus sul vostro conto Ma per farlo dovete attivare hype cliccando esclusivamente sul link che vi lascio qua sotto La promozione termina il 30 settembre, dunque affrettatevi Attivarla è gratuita, non ci sono commissioni per i bonifici, non ci sono costi per le ricariche E non c'è nemmeno un canone annuo Fin qui abbiamo parlato delle caratteristiche positive di hype Ma c'è qualche limitazione che va sottolineata Per esempio potrete ricaricare al massimo 2.500 euro l'anno Ci sono anche delle limitazioni che riguardano le ricariche mensili oppure i prelievi giornalieri Limitazioni che possono essere eliminate e quindi avere una carta quasi totalmente senza i vincoli Passando ad hype plus che costa 1 euro al mese e vi consente di ricaricare, ricevere bonifici in assoluta libertà Fatemi sapere nei commenti se siete già clienti hype e come vi trovate Se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace, iscrivetevi al mio canale E soprattutto cliccate sulla campanella per ricevere tutte le notifiche Grazie e al prossimo video Grazie a tutti